Ciao amici di Piazza Affari, dove siamo oggi? Vedete il mio abbigliamento, sono venuto a giocare a Beach Volley qui a Salice Terme con Giulia, giusto? Ciao a tutti, sì. Allora, siamo qua per sponsorizzare un'altra volta il Beach Movement, BVO, perché Beach Volley è un'attività sana, l'aria aperta, che a noi ci piace assai, o no? Molto bella, ci si abbronza, ci sta bene, con gente figliissima. Tra l'altro ho appena scoperto che Giulia è ripratto lungo, dalle mie parti, cioè, ma pensa a te, stiamo vicino di Tata e noi ci conoscevamo ancora. Ma io pensavo di trovare Sam, dove, dove minchia è Sam? Sam, dove sei? Eccolo! Eccolo qua! Eccomi qua! Presidente! No, sappassi, guarda cosa ti ho portato, ti ho portato delle t-shirt bellissime di Piazza Affari, per esempio questa della Lost, ti piace? E io la Lost? Non posso, non è così, no, aspetta, te ne ho portate un po' da vedere. Questa, ma io ti ho portato un piccolo campionario, sai per te qual è quella top? Questa, della Lost here, è top, prova, la metto su, la metto su, la metto su, la metto su, la metto su. Io provo questa, allora. Oh, tanto non fa caldo, raga. No, ne valiamo. Ma quella sono io che canto, ragazzi. Ehi, why now? Uh, sta, dai, passa. È super. Tanto che tu parli, noi facciamo due palleggi. No, ma anch'io voglio palleggiare. No, no, ti lasciamo fuori. No, no, bastardi. Eccolo! La! Ma si possono dirle parolacchie? Allora, la prossima volta, la prossima volta sei obbligato, lo possiamo dire, a portare dei pantaloncini, perché anche a B si gioca con i pantaloncini, quindi dobbiamo andare appuntamente. Allora, al prossimo video, tra l'altro si può dire, eh? No, non diciamo, non diciamo niente, seguiremo prossimamente. Seguite Piazza Pari. Ciao, Piazza Pari, BVO Beach Movement! Ciao! Yeah! Ciao, Piazza Pari. Ciao, Piazza Pari.